Mistero, una vittoria, era quello che si chiedeva a questo incontro contro il Porto Sant'Elpidio, è arrivato il primo gol di Palumbo, tante note positive, il recupero di Marchionni e di altri giocatori importanti. Siamo felici di tutto questo, era una partita scontata per molti, non per me, perché poi gli ultimi risultati del Porto Sant'Elpidio facevano pensare a questo, siamo stati bravi a giocare anche bene tecnicamente con una squadra che si difendeva tutti al limite dell'aria, prima di fare il gol abbiamo avuto delle grandi occasioni, poi siamo stati bravi a fare il primo gol, il secondo, siamo contenti perché poi abbiamo con il risultato in tasca, abbiamo potuto fare dei ragionamenti diversi anche in funzione di domenica, abbiamo fatto dei cambi e anche dei minutaggi importanti. Tre punti che permettono di chiudere il giorno d'andata da recuperare la gara contro il Tolentino a quota 32. Siamo contenti perché quest'anno è un campionato anomalo, con tanti infasettimanali, con tante problematiche, giocare partita dopo partita una dietro l'altra e quindi siamo contenti del bottino che abbiamo raggiunto, dobbiamo fare ancora una partita in questo giorno d'andata, e di questo nell'andamento della squadra sono strafelice. Adesso si ripartirà il giro in ritorno, sarà tutto un altro campionato e dobbiamo rimanere più concentrati possibili perché sarà un campionato difficile fino alla fine. Una sola nota negativa alla munizione di Bianciardi che salterà la gara da ex col Pineto. Di questo mi dispiace, perché mi dispiace principalmente per il ragazzo perché ci teneva tanto. Credo che il fallo da munizione non era fallo, perché gli avrò raccomandato anche di non fare fallo. Però il calcio è questo, abbiamo alternative, sicuramente chi giocherà al posto di Bianciardi farà la sua partita, farà la grande partita, quindi la prepareremo in questi giorni con grande abnegazione, con grande voglia di fare bene perché sarà una partita bella e importante.